Grazie a tutti. Cosa molto brevemente di lei. È stata ideatrice e curatrice al Festival di Spoleto per diversi anni per incontri sulla scienza e la cultura. Negli anni 90 ha curato la collana lezioni italiane presso la casa editrice La Terza. E poi, cosa per noi psicoanalisti di grandissimo rilievo, ha curato ed è stata direttore di una rivista per noi molto importante, la rivista Psiche. Potrei citarvi un numero innumerevole di libri, articoli, eccetera, eccetera. Ne ho scelti soltanto tre, perché sono quelli che forse io amo, ma che nei loro titoli esprimono anche bene quali sono tra i tanti gli interessi di Lorena Preta e anche quelli relativi al nostro incontro. Ho pensato di citarvi La passione del conoscere, Contaminazioni feconde e Zone di contatto. Ecco, tre titoli che forse danno il senso. In attesa poi di un suo libro che noi analisti affettiamo, Matteo Carone non ha bisogno di nessuna presentazione, tre titoli, tre anni fondamentali, credo nella sua carriera, L'Imbalsamatore del 2002, Primo Amore del 2004, non abbiamo avuto l'onore di poter condividere con lui nel nostro centro psicoanalitico di Via Panama qualche anno fa, Gomorra del 2008, Gran Premio Festival di Cannes, sia per Gomorra che per reality. Dunque ci sono tante cose da dire, mi piacerebbe anche a me dire qualcosa, ma invece lascio direttamente la parola intanto a Lorena Preta, poi sentiremo anche Matteo Carone e poi magari dialogheremo con noi, ci sono tante cose, tante domande, tante cose interessanti da dire. Grazie. Funziona? Funziona? Dunque, cercherò di essere brevissima, vista anche l'ora, anche se le cose da dire, io ho rivisto questo film dopo averlo visto la prima volta e ti devo dire Matteo che mi è piaciuto ancora di più, già mi era piaciuto molto e questa volta mi è piaciuto veramente tantissimo. Solo che ecco, il problema è che di fronte a un'opera d'arte bisognerebbe cercare di non sovrapporsi con un linguaggio proprio, per esempio con quello psicoanalitico. Io penso che anche, diciamo, i colleghi che gli altri psicoanalisti che sono venuti nelle giornate precedenti non abbiano fatto questo. Io certamente non lo farò, quello che cerco di fare sarà soltanto quello che cercherò di fare, di seguire una traccia tra le tante che il film potrebbe ispirare a uno psicoanalista. Diciamo, una traccia per me più consueta, una cosa, diciamo, sulla quale ho più pensato, che mi è più consona. Intanto siamo, come dire, aiutati a restare attaccati al tuo film, a non fare troppe digressioni con altri linguaggi, dall'atmosfera onirica che c'è in questo film che tu crei, no? Dalla quale addirittura sembra che si possa uscire con difficoltà. Allora, adesso, noi stiamo qui, parliamo, io sto parlando con un linguaggio, insomma, più o meno logico, razionale, però c'è una parte della teoria psicoanalitica che dice che è essenziale per pensare, proprio sognare le emozioni e i pensieri proprio mentre li si sta facendo. Per cui, per esempio, le cose che adesso io sto dicendo, quelle che stiamo pensando, dovrebbero entrare direttamente in una sfera che è quella del mondo dei sogni, nei pensieri dei sogni, perché nei sogni ci sono dei pensieri che sono quelli onirici, e soltanto in questo modo la vita mentale può avere uno sviluppo, un'evoluzione. Proprio perché la vita mentale, secondo questa teoria, consiste in questa trasmigrazione continua di elementi, quelle contaminazioni a cui accennava prima Fabio, dal conscio all'inconscio, per esempio viceversa. Cioè non ci sono delle province separate, c'è questa continua osmosi tra questi piani. Nel tuo film mi sembra che questo è molto evidente. E infatti l'esperienza, diciamo, almeno che ho avuto io vedendo questo film, è stata come un po' un'esperienza al limite, al limite tra sonno e veglia, tra realtà e fantasia ovviamente, anche tra normalità e follia, perché c'è la follia del protagonista, no? Ma la cosa che poi vorrei molto sottolineare, diciamo, è questo limite continuo e travalicato continuamente dell'individuale e del collettivo, dell'individuo e del gruppo. Lo sottolineo anche perché quello che Fabio Castriotta ha cercato, mi pare, di tracciare in tutta questa rassegna, è stato un discorso sul cambiamento, l'hai chiamato così, no? E in particolare questo film di Matteo dovrebbe far parte di quelli che sono considerati cambiamenti sociali. Ecco, allora, in questo senso mi sembra che questo bordo sul quale sempre si sta, dove c'è da una parte la storia del personaggio e il senso che ha per il personaggio questa storia, però continuamente sfora nella storia di un gruppo sociale, di una società, di una cultura, la cultura del sud, la cultura della società, dei consumi, diciamo. A volte, infatti, sembra di essere degli osservatori un po' esterni, no? Di planare dall'alto, come nella prima sequenza del film, di vedere dall'alto tutta questa situazione, poi piano piano ci si cala dentro totalmente e si scende nel particolare. Una volta che si apre questo cancello bianco dello spazio dove c'è il matrimonio, dove si svolge il matrimonio, siamo dentro, siamo irrimediabilmente catturati e fino alla fine del film stiamo lì, in questo spazio particolare, quindi immersi nella cultura, in quella cultura, in quella mentalità. Però io penso che l'analisi che Matteo fa in questo film va molto al di là di questo ed è la specie di una, la costruzione, di un, non so se lo potrei chiamare, una specie di personaggio ambiente, una specie di Giano Bifronte, no? Che un po' è individuo, un po' è gruppo, un po' è la cultura del suo gruppo e un po' è la storia personale, proprio totalmente personale, individuale, di Luciano, il protagonista, no? D'altronde poi mi sembra che questa è una caratteristica di tutti i tuoi film. Adesso penso a Terra di Mezzo, Manca, Estate Romana, no? Cioè di andare a scovare con curiosità e anche con una certa attrazione, un'attrazione molto forte, delle situazioni sempre di marginalità, delle situazioni molto marginali e quindi diciamo anche molto piccole, ridotte, no? rispetto al resto, che però ci fanno sentire subito spiazzati perché inducono, diciamo, a uno sguardo diverso, molto esterno ma molto da dentro, paradossalmente. Appunto questa panoramica dall'alto che però è poi un modo per entrare totalmente nella scena. Per questo secondo me quello che ne risulta è una specie di dimensione iperrealistica. c'è una realtà che è vista con una specie di visione binoculare, no? Direbbe Bione, c'è un doppio sguardo. Ne fa una realtà che è più reale della realtà stessa, no? C'è un'iperrealtà. Poi adesso non so se ti fa piacere, se mi è permesso fare un riferimento affettivo, affettivo anche per me e familiare, rendendo omaggio al grande critico teatrale che era Nico Garrone, tuo padre. Mi sembra che tu hai respirato sempre questa atmosfera, no? Nico era il re dei teatrini off, era quello che cercava le situazioni più incredibili, ti portava a vedere gli spettacoli più strani, scopriva le dimensioni esistenziali più inconsuete, insospettate, come quella che ti ha fatto conoscere, poi forse ce lo puoi anche raccontare, il protagonista del tuo film, che in realtà è un carcerato nel carcere di Volterra, ma poi forse ce lo puoi spiegare. Quindi questi personaggi, pur essendo molto marginali o vivendo in situazioni estreme in questo film e anche negli altri tuoi film, la cosa che mi sembra particolare, che è il punto su cui ha, il secondo punto, diciamo, oltre a quello del sonno veglia, che dicevo prima, su cui insisterei, è che riescono sempre, pur essendo marginali, a diventare dei protagonisti. Cioè, sembra che la loro marginalità ne faccia dei protagonisti. Pensavo per esempio anche alle prostitute prostitute di terra di mezzo, per esempio, no? Non recitano, non sono nulla, sono quello che sono, eppure sono delle protagoniste. Gli emigranti che tu descrivi, no? Diventano immediatamente dei protagonisti. E questo non perché tu li rendi, li fai rappresentare se stessi, ma proprio perché li vedi, li impatti per quello che sono, ce li fa impattare con questo senso proprio realistico, realistico di quello che sono. Per cui, dal mio punto di vista, adesso prima fuori dicevamo che non c'era tanto questo senso, io per esempio faccio sempre un'esperienza, quando vedo le tue cose, di un'alterità. Non della condivisione di una condizione umana, ma di un'alterità molto forte. Per questo, per esempio, a me il tuo realismo sembra molto diverso da un realismo letterario, come quello cinematografico degli anni del realismo che conosciamo, dove i personaggi diventavano esemplari, le storie erano esemplari e quindi diventavano subito, non so, dei tipi, anche astratti, che ci facevano sentire poi partecipi di un certo tipo di umanità per cui tutto ci appartiene, l'avaro, il tossicodipendente, l'assassino. Sì, questo è vero, in parte, ma anche, almeno per me, la cosa che è veramente interessante è il fatto, invece, di riuscire a sentire non riducibile questa estraneità di questi personaggi e poterla, invece, però, come dire, sentire attraente e sentire che ci si può mischiare, ma lasciandola assolutamente per quello che è. Questa è la cosa che a me attrae di più dei tuoi film, e tu magari la pensi totalmente diversamente, ma poi magari ce lo dirai. ecco, penso allora in questa linea che quello che succede a Luciano nel tuo film forse è proprio dovuto al fatto che non vuole essere un protagonista per quello che è. Lui fa proprio un procedimento contrario. Lui vuole essere un protagonista secondo un modello esterno a lui, un moderno esteriore, un moderno omologato, il modello della TV o del Grande Fratello, insomma, comunque il modello dei mass media. e questo lo spiazza proprio dall'essere un protagonista. Non riesce ad essere un protagonista se fa il protagonista di un'altra storia che è quella dei mass media. Io credo. Per esempio, penso che in una società come questa, lo sappiamo, lo diciamo tutti continuamente, si vuole sempre essere visti, si vuole essere guardati. Penso ai ragazzi, ai ragazzi, ai nostri figli, non so che continuamente chattano su Facebook, appena hanno un fidanzatino te lo trovi scritto su Facebook, è un annuncio subito agli occhi di tutti, non c'è come nessun pudore, apparentemente, rispetto alle proprie vicende personali. però questo in realtà è un gioco che ha delle regole molto precise, molto precise. Non si può sgarrare da quelle regole, si può dire del fidanzatino, ma non si può dire un'altra cosa che io adesso non ti so dire, ma so che c'è. Perché c'è tutto una regola che va seguita. se no il rischio qual è? È la paranoia, appunto. Allora io credo che Luciano, quando ne fa un problema troppo personale di questa sua, insomma, essere stato quasi chiamato, diciamo, insomma, selezionato per il provino, si sente l'eletto, esce dalla logica del suo gruppo familiare, dal gruppo che gli sta intorno, che è un gruppo molto forte, ci sono sempre nei film e poi queste solidarietà della famiglia nei tuoi film, Matteo. Cioè, ci sono dei gruppi che sono molto, molto uniti. E a quel punto lui trasforma la sua fortuna di essere stato considerato e forse scelto come un dialogo diretto tra lui e l'organizzazione del grande fratello. E questa è la psicosi. Cioè, quando il riferimento è così personale, è solo, totalmente personale, non è più neanche gruppale, esistono pure le psicosi di gruppo, ma insomma, quella è un'altra cosa. In questo caso è come se lui uscisse anche dal riferimento omologante mass mediologico della televisione, eccetera, e ne fa un fatto tutto suo, dove lui si misura con la sua inadeguatezza, con il senso di colpa che viene proprio dalla sua inadeguatezza, non sa quali sono le caratteristiche per cui dovrebbe essere scelto, per cui prova a correggere una certa sua incapacità a fare gesti di solidarietà e la trasforma in una generosità accanita, insensata, finalizzata, strumentale, quindi di nuovo esteriore. Quando arriva nella casa, alla fine, non sembra contento per aver raggiunto un ideale. Grazie, sentite lo diciamo. quanto piuttosto sembra che sia la soddisfazione di essere finalmente incluso nel gioco, se è vero che tutte queste cose si possono fare seguendo delle regole del gioco, no? Non è più importante, quindi il problema non è più quello di apparire o di essere, ma entrare, entrare nella casa, entrare nel gioco, ed entrarci con certe regole, per questo anche sembra così divertito, sarà una risata anche da pazzo quella che fa durante il suo ingresso e quella che fa l'ultimo quando sta steso, ma anche la risata di una specie di bambino che sta partecipando a un gioco, appunto, no? A quel punto, allora anche per, e non so se tu condividi anche questo, forse una volta, non so se ne abbiamo parlato o l'ho letto da qualche parte, tu mi dicevi che, dicevi che quando avevi finito Gomorra ti era rimasta una grande pesantezza dentro e che invece è finito questo film, no, ti eri sentito un po' più sollevato, più lieve. Ecco, io penso perché anche noi attraversiamo prima la curiosità, l'attrazione, la repulsione molto forte, io l'ho sentita fortissima per alcune situazioni, alcune persone, personaggi. Ci siamo chiusi in questo mondo claustrofobico della pazzia e in quello altrettanto claustrofobico di questa subcultura dei mass media, però a un certo punto poi c'è questa risata forse anche un po' liberatoria, si possono riprendere le distanze, la macchina da presa fa questa zoomata all'indietro e ci si può riallontanare e questo tuo sistema che è appunto quello, secondo me, di fare queste calate dentro nella maniera più interna possibile, ma anche di conservare questa visione più esterna possibile, nel senso comunque che ha una sua distanza, ha una sua diversità, quella che io chiamo ha un principio di alterità molto forte, non ha un principio di compassione, di empatia, per cui si sta lì a condividere quello che sente il povero Luciano, la moglie, no, secondo me si sta lì a guardare i personaggi per quello che sono, realisticamente rappresentati per quello che sono e lì si può anche, quindi questo è uno sguardo, quindi presuppone una distanza, ma anche lo si fa così da dentro che sembra di essere il napoletano, il pescivendolo, la cosa, eccetera, 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 non so se ti corrispondo almeno un po', ma che te che la do pensare. Grazie, grazie molto. a Lorena Preta e su questa falsariga dico soltanto una cosa e poi lascio la parola a Matteo perché sentendo adesso Lorena parlare mi sembra che questo sia uno dei grandi spunti sui quali potremo dialogare ma che ci riguarda a noi direttamente come psicoanalisti perché è proprio il tema come tu accennavi di quella giusta distanza che ci consente continuamente di stare col paziente nelle dinamiche profonde identificandoci anche con tutta una serie di aspetti talvolta anche molto distruttivi ma nello stesso tempo mantenendo quella possibilità di essere anche nello stesso momento esterni e strani alternativi in un certo senso e fare che da questo si abbia quello che secondo me soltanto secondo me essendo un grande appassionato del cinema di Matteo Carrone è proprio soltanto lui ho pensato rivedendo il film poteva fare un film che affrontasse così direttamente un tema che non ha nulla a che vedere con il grande fratello dicevamo a che a vedere con qualcosa di esistenziale che è il nostro rapporto proprio con la realtà ci sono veramente tante cose Matteo se vuoi dire qualcosa intanto intanto buonasera sono anche un po' emozionato questa è la sala dove venivo sempre a vedere le retrospettive quando dipingevo ancora non pensavo di fare regista quindi la prima volta che un mio film viene proiettato qui e che mi ritrovo dalla parte di qua e quindi sono emozionante e cercherò di diciamo di non avventurarmi in letture del film diciamo troppo complesse perché il film in realtà nasce in una maniera anche molto semplice la storia che abbiamo raccontato è una storia che è successa al fratello della mia compagna quindi diciamo che ho vissuto da vicino e quindi penso che insomma il desiderio anche di raccontarla sia nato insieme con Luciano in una maniera così abbastanza naturale dopo che lui insomma era uscito fuori da tutto questo incubo e mi interessava molto diciamo provare a ripercorrere questo suo viaggio questo viaggio sia geografico questo viaggio attraverso un paese e attraverso le contraddizioni di questo paese e un viaggio psicologico premetto che Luciano adesso diciamo ha partecipato al film al soggetto alle riprese ha dato molti consigli all'attore Agnello Arena ha ricomprato la pescheria quindi se vi capite di andare a Napoli c'è una pescheria si chiama Luciano dove lui lavora e quindi insomma diciamo che almeno nella realtà c'è stato un lieto fine il film come dicevo è un film e sono sono d'accordo con quello che è stato detto prima tra realtà e sogno volutamente ed è come dire un film che racconta di un viaggio racconta di un'illusione quindi credo che sia molto importante nel film l'aspetto corale che dicevamo non sono tanto d'accordo sulla marginalità perché in fondo anzi un aspetto drammatico di questa storia è che tutto sommato loro avrebbero tutto perché hanno un lavoro una casa tutto sommato non se la passano così male però non si accontenta sognano ma questo fa parte della società in cui viviamo cioè del capitalismo quindi hai sempre come dire il gioco è quello di farti sempre sentire come dire insoddisfatto di quello che hai e desiderare qualcos'altro quindi l'approccio che c'è stato da parte mia e di tutti i miei collaboratori è stato quello di fare un film cercando di stare accanto al personaggio cioè il personaggio per me Luciano non è tanto distante da me non mi sono mai messo su piedistalle ho detto giudichiamo mettiamo facciamo una morale anche io vivo in questa società anche io sono molto fragile e le seduzioni sono molte ed è molto facile perdersi perdere la propria identità quindi nel momento in cui Luciano contagiato perché poi il film parla di un contagio sono i figli che lo spingono è la famiglia è il quartiere non nasce da lui quindi è una contaminazione lui poi piano piano si ritrova dentro questo meccanismo e a quel punto non diventa più questa è una mia lettura insomma quindi non è più semplicemente il fatto di diventare ricco e famoso per poter aiutare la famiglia quello è un alibi in realtà il problema diventa esistenziale cioè nel momento in cui entri dentro non è neanche importante il grande fratello entri dentro la televisione poi ci potrebbe essere anche un altro programma nel momento in cui lì entri lì dentro tu dimostri a tutti che esisti quindi diventa esistenziale il problema non più un problema narcisistico e questo è secondo me un aspetto centrale diciamo della seconda parte del film dove il film prende dei toni molto più cubi e molto più drammatici molte scene nel film che avete visto sono scene che in realtà sono successe realmente quelle più strane più visionarie più fantastiche quella col grillo che un po' mi ricordava il grillo di Pinocchio è una scena che è realmente accaduta altre scene che abbiamo scritto in realtà sono quelle più normali lo scherzo al telefono o altro e che dire l'approccio è stato questo un approccio molto diretto emozionale semplice e e questo è poi se vuoi dico due parole sull'attore che appunto anche lui ha fatto un viaggio nel film anche insomma diciamo che l'interpretazione di Agnello che è un attore di teatro che ho scoperto grazie alla frequentazione teatrale con papà la fortezza che questa compagnia del carcere di Volterra è una delle compagnie ed era una delle compagnie più amate da mio padre e da me quindi ero abituato ad andare l'estate a Volterra a vedere gli spettacoli di Armando Punzo e Agnello è da 13-14 anni l'attore di punta di questa compagnia l'avevo notato e mi sembrava che fosse un grande talento avevo già provato a chiedere al giudice la possibilità di lavorare con lui in Gomorra ma credo anche giustamente il giudice ha dato un parere negativo perché c'erano dei legami tra il suo passato e il film e poi era ancora presto lui ha fatto reality ed erano già 20 anni che stava in carcere perché lui è andato in carcere che aveva 22 anni circa quindi e da alcuni anni aveva la possibilità di uscire durante il giorno per lavorare quindi lui da tanti anni aveva imparato questo mestiere quindi io ho scelto lui perché credevo nelle sue capacità mi sembrava giusto come faccia come volto e perché faceva l'attore non perché era un prigioniero quindi il film diciamo l'abbiamo girato in una situazione abbastanza diciamo no perché comunque avevamo i controlli dei carabinieri una volta o due a settimana che venivano a controllare se il detenuto Agnello Arena era realmente sul set ricordo la prima volta che sono venuti che stavamo girando la scena in cui lui era vestito da drag queen e quindi cercavano Agnello Arena e lui è apparso vestito da donna con le ciglia e mi ricordo la faccia dei carabinieri che era abbastanza diciamo disgustata però diciamo lui quindi di giorno lavorava la sera tornava in carcere ecco però credo che questo aspetto abbia dato un valore aggiunto all'interpretazione straordinaria di Agnello cioè il fatto che lui scopre insieme al personaggio di Luciano scopre un mondo quindi negli occhi si legge la sorpresa l'emozione di trovarsi dentro dei luoghi che in qualche modo per lui sono completamente nuovi visto che per tanti anni è stato chiuso dentro una gabbia poi c'è anche diciamo non era voluto il fatto che lui facesse tutto per rientrare dentro una gabbia questo non era era nella sceneggiatura ma ancora non era sicuro che fosse lui l'attore una coincidenza abbastanza strana è stata che la piazza dove lui lavora a Napoli sta nel quartiere Barra è una piazza che noi abbiamo completamente ricostruito era un parcheggio abbandonato e noi abbiamo ricostruito tutta la piazza tutti i negozi abbiamo messo il Cristo abbiamo fatto praticamente tutto poi quando abbiamo scelto Agnello perché era tra una serie di attori che avevamo in mente abbiamo scoperto che lui era nato lì quindi lui è tornato lì diciamo dopo vent'anni a girare il film ma è stata una coincidenza quindi c'erano tra i figuranti c'erano alcuni amici suoi di infanzia quindi è stata una coincidenza abbastanza forte che altro dire se c'è magari qualche qualche domanda se tu vuoi una cosa che volevo dire rispetto perché ero d'accordo quasi su tutto è sul fatto della marginalità in realtà è un po' un equivoco nel senso che almeno dal mio punto di vista io venendo dalla pittura diciamo sono sempre stato sono sempre stato affascinato da storie da immagini che in qualche modo mi colpivano quindi anche la scelta per dire di raccontare la storia di una giornata di tre prostitute africane nella periferia romana nasce da delle suggestioni visive legate a un'atmosfera che a mio avviso sembrava surreale allora non era tanto consapevole l'ho capito poi col tempo quindi vedere dei pastori che con le pecore che andavano giravano queste ragazze stavano su dei troni come se fossero delle regine della savana dei vecchietti con le biciclette che arrivavano un'atmosfera così a mio avviso surreale mi ha spinto a raccontare quella loro giornata quindi l'elemento diciamo di marginalità o di denuncia o sociale è sempre stato in secondo piano quindi poi ho capito che c'era un po' un equivoco e un'ipocrisia da parte mia nel voler raccontare o raccontare anzi col tempo ho capito che c'era anche qualcosa appunto di ipocrita proprio in me perché comunque dire prendevo raccontavo la storia di dei come dire storie di persone ai margini e poi vivevo comunque nella mia situazione privilegiata quindi come dire c'era qualcosa che non che non era chiaro quindi questo penso sia giusto dirlo sempre l'aspetto visivo mi spinge a raccontare una storia piuttosto di un'altra grazie grazie allora allora come al solito se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda magari possiamo dialogare un po' tra di noi non è che ci abbiamo tantissimo tempo quindi però magari qualche suggestione ecco grazie se riuscite a fare delle domande brevi magari parliamo tutti e di più sì una domanda una curiosità complimenti ovviamente grazie la dimensione religiosa del film la quindi il sacerdote la piazza con il con il Cristo di cui hai parlato in qualche modo come la io sono rimasto un po' ancora in dubbio sulla questione se è un parallelo tra la questione la dimensione religiosa e quella appunto dello spettacolo della televisione oppure una contrapposizione come se da una parte mi sembra abbastanza un parallelo come sensazione nasce da nasce da uno spunto come dicevo sempre realmente accaduto cioè Luciano veramente aveva un cugino credente e quindi mentre stavano lì a vendere il pesce si trovavano a discutere dell'occhio uno parlava di Dio e l'altro parlava dell'occhio del grande fratello questo mi sembrava molto divertente come spunto poi l'abbiamo sviluppato sino poi ad arrivare a quel finale che abbiamo scritto insomma che non è chiaramente non è accaduto tutto il viaggio via Crucis e poi il grande fratello però non penso che siano in contrapposizione penso siano due poteri insomma in qualche modo ma non magari non so però sì 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 qualcun altro vuole intervenire sì ecco se no cerco di riguardare qualcos'altro io ho esaurito quasi tutto e se se ci può dire qualche fare un dono riguardo la scelta della traccia musicale questa parte diciamo sezione di violini questa forma orchestrale deliziosa sì la il 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 compositore diciamo molto famoso si chiama Alexander Splat che è uno dei compositori più importanti adesso che ci sono al mondo e si è innamorata di questo film di piccolo film rispetto a quelli che fa lui perché lui diciamo si muove tra la Francia e Hollywood fa tutti i film diciamo di grandi film in America o in Europa fa quelli sempre con Polanski tutti gli ultimi di Polanski eccetera e si è innamorato di questo film ha colto un legame devo dire che io non hanno non avevo colto all'inizio un legame con i primi film di Fellini soprattutto con lo Scicco Bianco è stato lui a parlarmi del gli ha ricordato lo Scicco Bianco effettivamente poi ripensando c'è vero è un film che ha molte cose in comune con il tema dello Scicco Bianco il suo compositore preferito di sempre era Nino Rota quindi era perfettamente in linea diciamo e così ha deciso di di lavorare a questo film e lui mi suggeriva dei temi io andavo da lui a Parigi mi suggeriva dei temi ne parlavamo e poi piano piano purtroppo da un punto di vista musicale non ho la capacità di andare tecnicamente non sono non ho una grande cultura arrivo sempre così un po' per intuito comunque insomma è stata una bellissima esperienza lavorare con lui sì sì ma sì poi mi sembra che lui abbia sia stato bravo a trovare un tema che in qualche modo diventa quasi una voce narrante è come se accompagnasse i personaggi lungo la storia sì insomma era la vera star del del film despla grazie prego no no grazie gli attori sono tutti diciamo come avete visto tutti attori di teatro alcuni vengono dal cabaret dal teatro diciamo o da televisioni locali dove facciamo spettacoli comici e più che una domanda è un'osservazione il film si conclude con l'entrata del protagonista nella casa in realtà lui entra e è completamente ignorato dai protagonisti del gioco del grande fratello a me questo impressiona molto perché in realtà in quel momento entrando nella casa sarebbe diventato l'oggetto di visione di tutto insomma però è tardi e sera è tardi non lo notano quindi non è una no no lui cammina anche in una maniera molto circospetta quindi non è che entra salutando per farsi vedere entra in una maniera molto discreta ok e quindi è come se come un fantasma insomma entra poi chiaramente diciamo se ci dovesse essere un reality di due ma non credo ci sarà sarebbe partirebbe probabilmente dal carcere però insomma in quel momento lì lui riesce a passare inosservato sì sì grazie qui davanti dimmi pure dico poi dall'alta voce se vuoi intanto se vedi qualche relazione che tipo di relazione poteva esserci tra reality e Truman Show anche reality è il contrario di Truman Show però c'è sì però io qualcosa in comune c'è perché c'è il problema è l'inclusione lì l'inclusione è a priori cioè è un mondo che include il personaggio che è del tutto inconsapevole sì qui il gruppo include con maggiore consapevolezza il problema è che l'alterità si emerge quando c'è uno smascheramento questo c'è in tutti e due i film ecco però in che senso è contrario no no nel senso in maniera molto così semplice nel film nel Truman Show lui cerca di scappare da quella realtà perché poi scopre di essere osservato e qui il contrario invece lui pensa di essere osservato e cerca di entrare in realtà non è un totalmente immaginaria la sua però era un film comunque che avevamo in mente ma non sono tanti film che in qualche modo possono essere stati penso anche bellissima di Visconti un altro film che per certi versi aveva delle cose in comune l'inquilino del terzo piano di Polanski anche un film che per la seconda parte non so è stato molto importante l'aspetto diciamo di costruzione del personaggio quindi l'aspetto più pirandelliano era una delle cose che mi affascinava di più questa storia quindi che lui crea inventa un personaggio che pensa sia giusto che pensa sia adatto per entrare che ha più possibilità rispetto al vero Luciano quindi inventa un santo quello mi sembrava interessante come elemento prima di questo film avevo dedicato molto tempo alla ricerca di fare un film proprio su questi aspetti qua persona e personaggio avevo scelto allora Corona che avevo seguito per un periodo e tutte le varie vicende legate a quel mondo in cui è molto forte il rapporto tra il personaggio e la persona così forte che alla fine si confondono come un po' accade anche a Luciano lì in una maniera ancora più estrema poi l'abbandonai quel progetto perché mi sembrava fosse la cronaca fosse già rappresentazione e quindi più forte di quanto io potessi riuscire a fare nel momento in cui trovavo un altro che interpretava quel personaggio lì e quindi a malincuore perché avevo raccolto del materiale molto interessante l'abbandonato poi sono partito su questa storia che mi sembrava così lontana da quel progetto invece poi tutto sommato non è così lontano come tutto sommato non è anche così lontano da Gomorra il film precedente pensavo di fare un film totalmente diverso partire verso la commedia ma poi in fondo Gomorra è un film sul sistema il sistema del crimine ed è un film raccontato dalle vittime di questo sistema questo è un film sul sistema del mondo spettacolo raccontato anche qui da delle vittime cioè più che un film sulla televisione mi sembra un film sul pubblico in un certo senso quindi anche qui ho scelto un punto di vista dal basso e quindi penso ci siano parecchi fili diciamo parecchi legami tra i miei film precedenti a questo voi sarete esausti penso perché il film è lungo a tratti penso voglio darti invece una cosa riguardo il discorso della tua tecnica anche perché ne parlamo anche quando venisti mi ricordo al nostro centro di psicanalici mi ricordo allora parliamo molto ci spiegasti bene il discorso dell'uso degli obiettivi e del tentativo tramite certi obiettivi di essere lontano ma allo stesso tempo dentro questo potrebbe essere letale no letale sì allora non non ti lo domandare degli obiettivi si metta a fare gli obiettivi adesso rischiamo il linciaggio pensavo una cosa che faccio così brevemente una cosa che ho l'abitudine di fare è girare in sequenza quindi io giro dalla scena numero uno fino alla scena numero cento quindi seguo tutto il percorso diciamo drammaturgico il personaggio l'attore ha la possibilità di seguire tutto il percorso drammaturgico il personaggio e quindi di vivere tutto il viaggio per me è fondamentale perché in questa maniera l'attore può aiutarmi a capire se nella scrittura nella sceneggiatura che rimane un progetto ci sono delle stonature o meno quindi c'è un dialogo continuo e quindi siamo sempre disposti come dire a cambiare in diciamo durante il percorso a cambiare strada senza mai tradire l'anima del racconto però questo è un aspetto che penso sia infatti Aniello si è trovato bene perché è un modo vicino anche al suo modo di lavorare in teatro insomma poi per il resto poi che dire monto il film e poi torno sempre a rigirare dopo perché ci sono sempre cose che non vanno è sempre successo ho fatto sette film sette volte pensavo di averlo indovinato subito invece sempre una settimana due settimane torno a girare e riscrivo è un lavoro molto artigianale il mio diciamo ho un gruppo di persone con cui lavoro sempre amici e insieme seguiamo un po' tutte le fasi credo molto nel gruppo questo si sente molto anche all'onestà intellettuale con cui tu riesci a essere anche l'importanza proprio di avere accanto delle persone che nei momenti difficili ti aiutano che insegnano qualcosa il collettivo anzi in più nei momenti in cui a volte diciamo magari non trovo delle idee eccetera fate sapere che la voglia proprio di rivederli mi spinge come dire a darmi una stimola in più una spinta in più allora io domanderei a Lorena c'è qualche ultima riflessione che vuoi fare prima di chiudere questo ma come dice Matteo credo che siamo tutti stranati allora io ringrazio moltissimo sia Matteo Carone con Lorena e vi do l'appuntamento per chi continua a seguire questi nostri incontri domani ci incontreremo con Roberto Farenza Margherita Bui insieme alla nostra colletta Matilde Vignieri grazie molto ancora